Grazie, ciao, è andata bene, va bene, grazie di tutto quanto, io mi comunico pure ai vigili che mi avete aiutato voi. Perde il controllo dell'auto in curva su una via di campagna a causa del ghiaccio finisce fuoristrada. Un uomo e i suoi due figli sono rimasti chiusi nella vettura per un paio d'ore nelle campagne di Adelfia sulla via per Acquaviva in attesa che qualcuno andasse a salvarli. L'auto, nonostante i tentativi effettuati dall'automobilista in difficoltà, non riusciva a ripartire. Gli pneumatici, seppur invernali, non avevano aderenza. Siamo venuti qui sul posto e abbiamo girato i bambini, stanno bene, tutto a posto, è andato un'appassionata buffa. A salvare i tre sono state le guardie per l'ambiente di Adelfia giunte sul posto insieme a un cittadino col suo trattore. Sono stati loro i primi ad arrivare, nonostante l'automobilista avesse allertato anche i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi proprio a causa del ghiaccio e della neve. Il soccorso stradale, invece, non è riuscito a trovare la stradina secondaria sulla provinciale 83. La raccomandazione, dunque, è quella di prestare la massima attenzione, se possibile evitare di mettersi alla guida a causa del ghiaccio che rende problematica la circolazione su numerose strade extraurbane del Barese, soprattutto nelle ore notturne. Le previsioni prevedono ancora un po' di neve, quindi domani scatterà ancora la terza operazione spargisale. Intanto, nel frattempo, abbiamo avuto una chiamata d'emergenza. Grazie a tutti.